Finanza, borse mondiali in rosso da due giorni, piazza affari perde oltre il 2% e scivola verso la soglia dei 32.000 punti, pesano economia USA, tensioni geopolitiche e incertezze sui tassi. Industria, cresce per il secondo mese consecutivo la produzione che a luglio segna un incremento di mezzo punto, ancora negativi del 2,6% i numeri sull'anno. Commercio, calo di due decimali delle vendite a dettaglio a giugno, su basse tendenziale, mercato in flessione dell'1% in valore e dell'1,8% in volume. Alice, il gruppo Smet compie oggi 77 anni, stasera a Salerno sarà presentato il primo trattore Iveco S-Way 4x2 alimentato con biocarburante HVO. Turismo, weekend da bollino nero sulle strade italiane, 18 milioni in viaggio ad agosto, il 10% in meno per una redistribuzione delle ferie negli altri mesi estivi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.